Grazie Marco, anche tu 20 minuti, ti darò fastidio come ho fatto a tutti gli altri e quindi buona presentazione, grazie. Ok, grazie mille, grazie a tutti per l'invito come ufficio. Ho appunto molti spunti che mi sono stati dati dalle presentazioni precedenti. L'obiettivo più che altro qui è di essere molto concreti presentando quattro esempi dove è stata utilizzata l'ingegneria naturalistica e altri esempi dove non lo è stata fatta perché abbiamo prediletto il concetto dello spazio di mobilità che è stato discusso precedentemente, quindi sostanzialmente la riqualificazione fluviale in senso diciamo stretto, quindi dove il fiume ridisegna il suo spazio e non dove l'uomo lo costringe all'interno di strutture. Allora, come detto il sommario della presentazione sarà appunto il concetto di ingegneria naturalistica e spazio di mobilità nel nostro lavoro e questi quattro casi di studio. Una cosa importante è che appunto noi siamo una micro realtà a livello diciamo europeo poiché siamo in questo contesto prealpino del canton Ticino quindi a 100 km a nord di Milano. È un contesto fortemente urbanizzato quindi i nostri corsi d'acqua vivono una grande conflittualità abbiamo una conflittualità tra spazi vergini, edificabili e agricoli quindi non abbiamo grandi spazi di manovra soprattutto siamo caratterizzati da piccoli e medi corsi d'acqua che caratterizzano la maggior parte del reticolo idrografico e comunque sono a regime torrentizio con pendenze quasi sempre superiori allo 0,5-1% quindi non siamo in contesti planiziali siamo in contesti di fondo valle pedemontani quindi gli interventi che noi attuiamo sono molto specifici su questi condizionamenti su queste condizioni di contorno allora quello che dicevo appunto in entrata è che negli ultimi anni abbiamo fatto una grossa riflessione tra quello che è lo spazio di mobilità e l'ingegneria naturalistica nel senso che come abbiamo visto l'ingegneria naturalistica ha spesso utilizzato come un rinverdimento del corso d'acqua e una stabilizzazione delle sponde quindi come una tecnica costruttiva questo però va a cozzare un po' con quello che è la riqualificazione fluviale intesa come ridare al fiume il suo spazio e la sua dinamica come diceva Andrea Goltara alla fine la riqualificazione fluviale è ridare al corso d'acqua uno spazio di mobilità e quindi una dinamica naturale in modo tale che vengono creati ambienti in modo autonomo quindi se in queste immagini vedete una sistemazione di un corso d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica in questo altro schema vedete un po' quello che dicevo prima i due paradigmi in un medesimo corso d'acqua con delle restrizioni laterali cos'è meglio? andare a puntare sull'ingegneria naturalistica quindi sul rinverdimento spondale oppure andare a puntare su quello che è la ricerca dello spazio di mobilità del corso d'acqua senza andare ad utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica quindi come vedete qua andando magari a creare degli elementi in duro e scogliere però portate all'esterno dello spazio di mobilità e quindi andando a incrementare questa dinamica ci siamo quindi chinati su questo cambiamento di paradigma e dal nostro punto di vista ma come abbiamo visto anche dalle presentazioni precedenti noi comunque andiamo a prediligere il fatto di dare spazio quindi lasciare una dinamica naturale intervenire il meno possibile con tecniche di ingegneria naturalistica a meno che non siano necessarie ecco quindi questo schema è abbastanza chiaro su quello che è il concetto che noi abbiamo sviluppato e che andremo a sviluppare che vi spiegherò in questi esempi concreti quindi vedete che nel primo caso abbiamo uno spazio di mobilità ridotto abbiamo chiaramente una grande vegetazione quindi delle forest gallery nel secondo esempio abbiamo uno spazio di mobilità molto più ampio quindi dei risultati molto più naturali e una vegetazione molto più spontanea un primo esempio che volevo mostrarvi è la foccia di questo torrente che si mette nel fiume Ticino questa è la situazione di partenza quindi un canale completamente lastrecato dinamica zero, vegetazione zero la situazione dopo due anni avendo rimosso tutti gli elementi induri è quello di aver dato al corso d'acqua una massima libertà una massima libertà di espressione e in questo caso abbiamo avuto la fortuna di quindi praticamente ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica quasi nulle perché qui appunto non vi erano delle restrizioni particolari se non quelle legate al mantenimento di questi terreni agricoli adiacenti quindi qui vedete una foto a due anni dalla messa in esercizio quindi alvo e sponde liberate è una foce che ha ripreso la sua espressione in questo caso come detto se riprendiamo lo schema lo schema in entrata abbiamo il prediletto appunto quello di portare i consolidamenti al più esterni possibile alle sponde quindi con questo concetto di scogliere arretrate o nascoste che vengono praticamente messe al piede di sponda e poi interrate questo fa sì che si praticamente si definiscono delle linee massime di intervento quindi fin dove il fiume può andare a svilupparsi ma all'interno di questo praticamente vi è una una libera dinamica quindi come vedete la sponda la sponda di prima con le scogliere in costruzione una volta ricostruite e poi le sponde ricoltivate semplicemente con una geostrua di cuoco e con delle talee di salice però all'interno nessun tipo di diciamo di struttura guida ecco se non appunto quella di 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 mettere appunto dei massi o del legno morto questo fa sì appunto che siamo andati a diciamo massimizzare lo spazio di mobilità quindi qui vedete una situazione durante un recente evento di piena e poi dopo l'evento di piena quindi come questo fiume ad ogni piena cambia la sua il suo aspetto la sua dinamica e crea nuove strutture altro altro esempio che voglio farvi vedere è quello dell'utilizzo del legno morto nel senso che spesso si dice che l'ingegneria naturalistica è interessante perché si utilizzano elementi diciamo naturali sì è vero però le palificate dove vengono utilizzate dei tondami dei tondi di castagno sì è legno morto ma non ha quella funzione come l'inserimento di legno morto quali ceppai o alberi sradicati quindi il fatto di dire l'ingegneria naturalistica è interessante perché utilizziamo del materiale vivo e morto dipende che tipologia quindi anche qui in questo caso noi predilegiamo quello di utilizzare elementi che già troviamo durante diciamo gli scavi in modo tale da creare una diversificazione degli abitati acquatici e terrestri come in questo caso la creazione di rifugi acquatici per la fauna ittica l'esempio che vi ho fatto vedere prima si riferisce appunto a questa golena lungo il fiume Moesa in sponda destra che era una golena praticamente inattiva poiché non vi era più la possibilità di isondazione del fiume quindi nell'ambito di questo progetto autostradale è stata posta quale esigenza la compensazione di questa di questa golena quindi la riattivazione attraverso un braccio laterale quindi qui in questo caso abbiamo abbiamo agito ricreando appunto degli ambienti ad acque correnti ed acque ferme senza ricorrere all'utilizzo di ingegneria naturalistica e soprattutto lasciando le sponde ad una rivegetazione il più naturale possibile quindi senza andare neanche a stabilizzarle con geostuoio con rinverdimenti questo appunto per ricare una dinamica sia dal punto di vista acquatico sia dal punto di vista terrestre anche qui in questo caso un esempio di un piccolo corso d'acqua in ambiente fortemente urbanizzato qui invece siamo andati a strutturare diciamo il fondo dell'albo utilizzando radici oppure creando dei deflettori con delle fascinate vive oppure come vedete sulla destra dei rifugi spondali per il gambero di fiume questo è un altro esempio è un canale di pianura tipica sezione trapezoidale uno spazio di mobilità molto ridotto di due metri un fondo dell'alveo allastricato una vegetazione molto banalizzata questo è lo stato ante operam anche qui condizionamenti dati dalla presenza di aree agricole di due terrapieni qui ecco si imponeva diciamo la decisione già iniziale di dire cosa facciamo lavoriamo all'interno di questo spazio quindi utilizzando tecniche di ingegneria quindi andando a ricreare delle condizioni più prossime allo stato naturale però senza aumentare lo spazio di mobilità oppure cercando di aumentare il più possibile lo spazio di mobilità e andando a ricorrere a queste scogliere arretrate come vi ho presentato precedentemente quindi seguendo questo concetto di massimizzazione dello spazio di mobilità siamo andati quindi a creare queste strutture diciamo di difesa spondale il più lontano possibile dal letto del fiume bagnato e quindi al loro interno dopo un anno qui vedete questo spazio di mobilità ha ricreato anche delle strutture interne quindi isole di vegetazione macrofitica senza andare a inserire elementi elementi strane quindi con la massimizzazione dello spazio noi andiamo a ricreare delle condizioni quadro che avevamo preconizzato quindi questa era la fase post-cantiere durante il cantiere quindi vedete queste scogliere come vedete qua nell'esempio in sponda idraulica a destra abbiamo anche inserito e noi insistiamo sempre nei nostri progetti nel ricreare anche microstrutture terrestre quindi soprattutto delle pietrae per la piccola fauna terrestre quindi queste piccole strutture queste microstrutture che non sono comunque raggiungibili con l'ingegneria naturalistica classica ovvero con i rinverdimenti quindi pur essendo materiali inerti noi andiamo ad ottenere dei grandi risultati in termini di presenza di specie animali ad esempio quindi qua come vedete lungo le sponde queste pietrae che fungono sia da punti fissi però essendo permeabili ci danno dei grandi risultati quindi qua si pone anche la questione spesso inserire delle pietrae o delle palificate lungo la sponda quindi qua vediamo per esempio un primo fruttore di questa riqualifica è una attrice tassellata una bicia semiaquatica che era specie target e che beneficia soprattutto di questi elementi in sponda molto permeabili quello che dicevo si possono ottenere anche risultati simili inserendo delle palificate spesso possono essere interessanti quando questi sono dei piccoli elementi su piccoli tratti come in questo caso che permette di avere degli allargamenti puntuali ecco quindi in questo caso possono essere interessanti quando queste strutture diventano molto grandi quindi longitudinalmente si sviluppano su grandi estensioni possono diventare invece delle restrizioni come in questo caso per esempio dove l'ingegneria naturalistica può diventare anche controproducente perché porta a una stabilizzazione delle rive delle sponde oppure come in questi casi l'inserimento di ingegneria naturalistica in contesti dove essa diventa avulsa e il corso d'acqua riprende le sue vie quindi spesso viene anche utilizzata e venduta non in modo corretto come anche in questo caso appunto alla fine un'opera di ingegneria naturalistica non è altro che una stabilizzazione un consolidamento spondale quindi ingegneria naturalistica non significa per forza riqualificazione fluviale altri esempi non vorrei dimenticare le acque ferme quindi lungo il lago Ceresio quindi in questo caso le tecniche invece di ingegneria turistica ci vengono molto utili quando abbiamo dei condizionamenti che non ci permettono di aumentare gli spazi di mobilità o ricreare nuovi ambienti quindi qua vedete appunto un progetto ferroviario con un consolidamento in duro della scarpata ferroviaria con tre travoni in cemento e quindi anche praticamente il consolidamento della riva lago quindi qua è stato richiesto un compenso ambientale in quella zona rossa che vedete quindi il fatto di ricostruire la riva lago che è stata completamente consolidata dall'inserimento di questi elementi in duro di questi travoni di sostegno della scarpata ferroviaria quindi in questo caso abbiamo creato una palificata lungo tutta la riva lago facendo un ampliamento della riva verso lago con delle fascinate in salice che sono diventati anche degli ambienti interessanti per la fauna ittica questo ha permesso sia di aumentare la superficie di battigia ma anche quella acquatica quindi qua vedete la fase di cantiere con questo travone in calcestruzzo quindi la riva lago praticamente scomparsa e in seguito qua vedete quello che abbiamo ricostruito ovvero la ricostruzione di questa riva molle e rigida verso lago con questa qualificata doppia con queste affascinate sia vive sia morte per creare anche due ambienti pronto mi sentite sì ecco sono avanti qua appunto vedete a fine cantiere la ricostruzione la ricostruzione di questa riva e quindi di questo compenso quindi in questo caso l'ingegneria autoristica è stata applicata in toto e ci è venuta molto in aiuto poiché non avevamo spazi di manovra per ricare una sponda arretrata quindi qua vedete dopo gli interventi anche la parte terrestre è stata riqualificata vado abbastanza rapidamente quindi qua vedete appunto l'intervento hai 5 minuti comunque sono verso la fine queste affascinate a lago altro esempio è la ricostruzione anche di canetti in zone fortemente con molte restrizioni quindi come in questo caso con la presenza di un pontile e di una strada e di una strada qui l'obiettivo era quello di ricreare una battigia dei canetti dei rifugi sommersi di piccole strutture qui anche in questo caso è stata applicata all'ingegneria naturalistica come vista precedentemente quindi praticamente vi faccio vedere durante il cantiere il fatto di aver creato questa parificata frangifluti con delle fascinate e poi praticamente l'inserimento in sponda di strutture rifugio per la piccola fauna terrestre e nella zona tratteggiata blu l'inserimento di canetti all'interno di un materasso fatto di cocco qui vedete appunto questa superficie diciamo questa superficie verde dove all'interno sono state piantumate delle erofite quindi vedete qua durante il cantiere tre anni dopo il cantiere praticamente i risultati sono quelli che abbiamo ottenuto questi ambienti acquatici e terrestri come avevamo pensato ultimo esempio è la creazione di questo altro canneto sulla riva Lago Ceresio con tecniche di ingegneria naturalistica in questo caso come vi ho visto prima la creazione di una parificata frangifluti per permettere l'inserimento arretrato di questi materassi contenenti rizomi di canneti palificata frangifluti che è anche lo scopo chiaramente come il nome stesso lo dice è quello di permettere l'attecchimento del canneto e quindi di limitare l'erosione data dal moto ondoso quindi qui casi dove l'ingegneria naturalistica è stata applicata in senso stretto qua vedete appena dopo la fine degli interventi e qua alcuni anni dopo ecco visto che il tempo a mia disposizione è finito termine la presentazione grazie mille grazie Marco grazie per la presentazione per i tempi complimenti anche per gli interventi molto spesso ai liberi veramente con delle condizioni limitanti notevoli insomma e quindi un altro gruppo di esperienze veramente interessanti grazie a tutti grazie a tutti